Si avvicinano le amministrative di Città Sant'Angelo, Matteo Perazzetti sarà il candidato sindaco per il centrodestra, oggi la presentazione ufficiale anche del programma, quali le priorità? Le priorità sono quelle di portare Città Sant'Angelo avanti veloce, queste sono due parole che io voglio sottolineare perché Città Sant'Angelo e tutti gli indicatori oggi di Città Sant'Angelo sono negativi, parliamo di raccolta differenziata che secondo gli ultimi dati ISPRA è arrivata al 20%, un piano regolatore che è lo strumento tecnico di armonizzazione territoriale che non è ancora stato presentato. Città Sant'Angelo è un paese dinamico, un paese in pieno sviluppo e deve avere risposte concrete e molto molto veloci, questa amministrazione non la sapute dare, anzi ha fatto una mala gestione sia territoriale sia a livello economico, tale da aver portato il comune a dover sacrificare sull'altare beni patrimoniali come la farmacia comunale, come la Lex Ludoteca o la Biblioteca per i ragazzi. Un impoverimento di servizi per i cittadini che io come primo fruitore dei servizi non accetto ed ecco perché il mio impegno per cercare di portare Città Sant'Angelo verso un futuro molto 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 migliore. Come mai Perazzetti ha deciso di scendere in campo in prima persona? Perché Perazzetti è un cittadino come tutti quanti gli altri, Perazzetti ama Città Sant'Angelo ed è proprio nel nome della lista, si amo Città Sant'Angelo e racchiuso tutto quello che è tutta la motivazione per la quale io ho fatto questa scelta. Amo troppo Città Sant'Angelo, insieme alla mia lista l'amiamo tanto e non accettiamo che venga deturpata in questa maniera.